Furto da 6.000 euro scoperto in meno di un giorno dai carabinieri della stazione di Stresa che hanno denunciato una cameriera ha recuperato il bottino. A riferire l'accaduto ai militari, ieri mattina era stata la titolare di un ristorante del centro. Al momento di chiudere infatti, intorno alle 23.30 di sabato, si era accorta che era sparito il marsupio verde nel quale aveva messo l'incasso dei due giorni precedenti da portare in banca. Il marsupio era nascosto in un cassetto dietro al bancone. Erano stati giorni di lavoro intenso con il weekend dell'ascensione, quindi anche gli incassi erano stati elevati. La donna era sicura che alle 17.30 di sabato i soldi fossero ancora lì perché li aveva presi per fare dei pagamenti. Poche ore dopo però erano spariti. La signora ha presentato una denuncia contro i gnoti perché non aveva sospetti su nessuno. I militari del comandante James Lewis sono andati sul posto e hanno puntualmente ricostruito, in base alle testimonianze, tutti i movimenti nel ristorante dalle 17.30 alle 23.30. Sono stati analizzati i movimenti del personale, sette dipendenti, a che ora sono arrivati tutti e come si muovono solitamente, limitandosi a coloro che poi si aggirano nella zona del bancone. Fino a quando è emersa un'anomalia, una cameriera intorno alle 18 è andata in bagno e poi ha chiesto di andare un attimo a casa per prendere una medicina. La titolare non aveva nessun sospetto sui due suoi dipendenti dal momento che lavorano tutti da anni ormai con lei. I militari hanno scoperto che la cameriera aveva qualche problema economico. L'hanno aspettata ieri sera fuori dal lavoro, perquisito la sua casa, sono saltati fuori i soldi. Un po' erano sotto il materasso, un po' nei cassetti, sotto il letto e la prova definitiva è stata la scoperta del marsupio verde nel quale c'erano i soldi. Uno shock per la titolare del ristorante. Il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria e la donna è stata denunciata per furto aggravato, sia per l'entità della somma che per il rapporto di fiducia che c'era con la vittima.